Riccardi Domenico Riccardi Domenico 11.51% Devele in Salaam 11.53% Paso 4 11.53% Due minuti Treo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 30 secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, go. Vai, Mimmo, vai, vai! Ispira. Bravo, bravissimo. Vai, Mimmo, vai! Mimmo, vai, Mimmo, vai! Mimmo, vai! Mimmo, vai!